Domenica presso il loggiato Gildoni si trasformerà in una cittadella della salute con la giornata della prevenzione dedicata alla promozione dei corretti stili di vita che dalle ore 8 metterà percorsi ad hoc rivolti ad adulti e bambini per favorire la conoscenza dei fattori di rischio delle patologie più diffuse con consulenze di medici specializzati ed esami diagnostici completamente gratuiti. L'iniziativa è promossa dal gruppo dei volontari di Città di Castello, dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro dell'Associazione Culturale Cittadini in Movimento e dal Comitato Tifernate della Croce Rossa Italiana con la collaborazione dell'Associazione Il Cammino, Gli Amici del Cuore, Pubblica Assistenza Tifernate, Croce Bianca Accademia Creativa, Amici della Piazza e con il patrocino del Comune di Città di Castello. Io credo che anche una piccola città come Città di Castello possa fare una giornata di prevenzione perché ci siamo uniti tutti, anzi io sono stata invitata dai cittadini per il movimento ma avevamo già deciso di fare un convegno perché cade nell'ultimo giorno della settimana nazionale della ricerca sul cancro. Questo era importante per me fare un convegno perché io credo che, diciamo sempre, che noi siamo quello che mangiamo e allora verrà un medico dall'ospedale Cro di Aviano, ci parerà di alimentazione. Poi dobbiamo essere informati per quanto riguarda gli ultimi farmaci che sono importanti tant'è gli diamo anche con i cioccolatini un'informazione. Invito tutti i cittadini. Noi come associazione abbiamo sempre finora lavorato sul benessere dell'ambiente e delle persone nei vari eventi che abbiamo fatto fino ad oggi e con quest'ultimo evento siamo riusciti a convogliare quello che erano gli intenti delle diverse associazioni, di diversi punti di riferimento anche istituzionali, in un unico evento e questa è una cosa che per la prima volta accade. È per questo che ci auguriamo, oltre che la partecipazione, ma non per far sì solo che l'evento riesca, proprio per riuscire a dimostrare quanto è importante la prevenzione per il benessere di ognuno. La mattina infatti ci sarà un percorso di prevenzione con i controlli della glicemia, con i controlli per quanto riguarda l'assetto lipidico, pressione arteriosa, con un nutrizionista e successivamente anche con un cardiologo per un elettocardiogramma. Nel pomeriggio invece ci sarà un pomeriggio dedicato alle famiglie, dove ci sarà un gruppo di giovani che intratterranno i bambini e tutta un'attività fatta dai nostri volontari e anche da persone comunque dei relatori, sia sulla corretta alimentazione che sulle manovre di sostruzione delle gherine da pediatrica, sul BLSD, quindi sull'utilizzo del DAE e per quanto riguarda il BLS, quindi le manovre a salvavita, che sono sempre più importanti perché, come hanno già detto, è molto importante prevenire piuttosto che curare.